Ho detto che non è previsto, non ne sapevo di questo intervento, non mi era stato chiesto, per cui non voglio aprire una prassi per cui si ribalta l'ordine del giorno del Consiglio. Se voi non vi sentite, come vi avete detto prima, abbastanza, non sentite che questo Consiglio Comunale si stia interessando, vi ho detto che sono disponibile in quanto rappresentante del Consiglio Comunale e chiedo alla disponibilità anche ai capigruppo se volessero l'incontrarvi, quindi prendo un appuntamento e l'incontrarci, questo sì, credo che le regole in democrazia vadano rispettate, altrimenti ho proprio a prassi di più, poi vedete il Consiglio Comunale e 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 poi vedete il Consiglio Come un appuntamento e un appuntamento Il nostro architettore è il nostro palazzo per la pagina. Il nostro palazzo è il nostro palazzo per il roubaro, perché si provoca a mandare! E lo scopo è il nostro palazzo per la pagina. Perché ho mandato dentro a mandata, perché ho mandato a mandata. Io ho la dignità! Ambi questo consiglio comunale del prego di io vi... Complimenti i campagni, sono buoni lavoratori che vanno a te i carabinieri, buoni compagni, buoni compagni, buoni compagni, buoni compagni e buoni compagni. lei chiedo di parlare con Mese, tra i secondi la mia disolita, io ho portato, po' di un'area d'al 10 ottobre, la mia amica mi scopre, la mia amica, la mia amica. Avete capito? La sapete anche voi? E non fate niente! Questo 100 milioni di euro, io sono chiusa, ma non sono chiusi, ma mi lavora a posto, non stiamo iniettili! E chi è che fa questo? Ero Milano! I vostri amici! Ero Milano! Non avete avuto il consenso di chiamare uno solo di noi! Te ne fregate! Non che aspettiamo che il sito non ci riuscite! Tio cittàvi! Tio cittàvi!!! Perché la prima è giardate! Non me lo smogliendo del comando è espolta mare! I ragazzino si vede! Il divino è giudato! Non abbiamo avuto il sito! Aveva che dentro non aveva fatto niente! E poi perchè era l'espelte a volare! E' l'espelte chi era! Amicilio di vista, un maglio di vista, non non lo so! Non avete mai, ma non è possibile... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma non posso interrompere la scritta del Consiglio che non vi ha previsto, per cui io continuo con i punti, poi se vogliamo incontrarci fuori ci mettiamo d'accordo.